e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ed oggi guarderemo le lezioni degli scp ok ed è tanto che non faccio video lo so mi dispiace ma ho tante cose da fare e non so che cosa fare ok vabbè comunque iniziamo da che video potremmo iniziare allora scp087b e notri gmod a parte questo attenzione in questo video vabbè meglio sceglierne un altro wow iniziamo con le canzoni 330 il sacchetto di caramelle eye cancer e scan lady 3 2 1 2 3 3 2 4 3 5 aspetta traduttiamolo Caramelle Grazie a tutti. 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 Disgustante. Forse... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So, la pizza. Grazie a tutti. Non c'è più. ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ......